Wewe ragazzi e bentornati! Oggi vedremo il pulipavimenti! Arma d'assalto Art Deco, versatile fucile d'assalto adatto a qualsiasi contesto di battaglia, garantisce massima precisione se usato col mirino in raffiche controllate. Allora ragazzi, il nostro pulipavimenti in questo caso siamo andati a farlo di elemento fuoco perché la sua ultima perk infligge il 44% di danni bonus contro contro i nemici elementali di tipo natura. Abbiamo percato questo pulipavimenti comunque con un doppio livello critico e un doppio danno critico, ciò comunque darà modo ai 30 colpi di avere più probabilità critica, quindi magari più colpi del solito rientreranno critici. Così comunque l'arma raggiunge una probabilità del colpo critico del 51%, quindi leggermente sopra la metà. E senza perk di ricarica, senza perk di caricatore, comunque ha un tempo di ricarica di 2,3 secondi, diciamo neanche troppo lungo, ce lo facciamo bastare in questo caso. E 30 colpi in ogni caricatore. Comunque la vera domanda da porsi con queste armi è vado a sfruttare l'ultima perk, quindi con i danni maggiorati in questo caso contro i nemici natura e vado quindi a percare l'arma con l'elemento fuoco per ottenere un danno maggiorato contro appunto gli elementi natura? Oppure semplicemente vado a percarla normalmente e utilizzo l'ultima perk come se fosse un'ultima perk qualunque? Quindi intendo farla da energia e utilizzare l'arma sempre, ma appunto sfruttando i danni maggiorati contro gli zombie di elemento natura laddove e soprattutto quando posso. Beh, personalmente, personalmente ragazzi, io posso contare su un set di armi abbastanza esteso fortunatamente. E sarò sincero con voi, non vi mentirò, la maggior parte dei miei progetti diciamo che comprende l'elemento fisico oppure energia. Diciamo che in molti set tendo sempre a lasciarli appunto utilizzabili con qualsiasi build, a parte i set dove non è possibile cambiare le perk. Faccio esempio comunque del set tubo uoto piuttosto che del set black metal. Ecco, questo set ce lo vedo bene come quel set da fare con tutte le armi di tipo elementale, ma tutte le armi differenti, quindi ogni arma con un elemento differente. Ovviamente, come mi capita, certo avrei anch'io le mie preferenze, parlo per esempio del lanciarazzi di Yerik, dove mi sarebbe piaciuto comunque trovarlo piuttosto che ad acqua di natura. Parlo anche per questo R, che in questo caso lo sono andato a percare di fuoco, perché ovviamente utilizza i danni maggiorati contro gli zombie di tipo natura, ma mi sarebbe piaciuto trovarlo con l'ultima perk che boostasse i danni o contro i nemici d'acqua o contro i nemici di fuoco. Semplicemente perché ho già tantissime armi di fuoco, quali le armi black metal, lo scava fosse appunto. E se posso dirvi la mia, anche la spada. La spada essendo una spada spammabile, e ok, io personalmente ancora non l'ho trovata, ma l'ho utilizzata di elemento fuoco perché chi l'ha trovata, l'ha trovata con i danni boostati contro gli zombie di natura. Ecco, e non sto dicendo che sia sbagliato, sto dicendo che magari è leggermente scomodo. Voi ogni volta che vorrete spammare l'attacco secondario, ovviamente in mischia perché comunque è una spada, quindi si suppone che comunque venga utilizzata quando ci sono tantissimi zombie attorno a voi, beh, averli tutti di natura, diciamo che se vi colpiscono vi tolgono la stamina e molte volte è molto fastidioso. Per quello, anche la spada punterei di più a trovarla con i danni boostati contro gli zombie di tipo acqua, oppure anche contro quelli di tipo fuoco va benissimo. Vabbè, ma quello poi lo vedremo in un altro video e nel prossimo episodio soprattutto. Questo è il video sul pulipavimenti, una R veramente eccezionale comunque se devo dire la mia. Non mi dispiace affatto, devo dirvi che comunque ha un bel danno critico, entrano comunque abbastanza spesso ed è molto ragionevole. Diciamo che la descrizione già descrive il 90% di quest'arma. È un fucile versatile, come la descrizione del bulldozer adatto a qualsiasi contesto di battaglia, quindi già sappiamo cosa aspettarci da un'arma del genere, no? La descrizione però ci diceva anche, garantisce massima precisione se usato col mirino in raffiche controllate. Quindi mi raccomando, quando utilizzate quest'arma a distanza non state lì a spraiare con tutti i colpi consecutivamente, ma prendete sempre una piccola pausa tra una raffica e l'altra, in modo da ottenere una precisione più precisa. Si può dire una precisione più precisa? Maggior precisione. Comunque adesso, tralasciando i discorsi dell'elemento e anche comunque l'ultima perk, nel suo piccolo, questo fucile d'assalto risulta veramente versatile, veramente in tantissimi contesti. Sia utilizzarlo contro gruppi di zombie, sia utilizzarlo contro gli smasher, sia comunque utilizzarlo a una distanza meglio ravvicinata, piuttosto che da una lunga distanza, l'arma sarà sempre uguale. Certo, sulla lunga distanza magari andiamo a perdere un po' di precisione, ma come ci fa intendere la descrizione vi basta prendere un po' di pausa. Ma col seno di poi, comunque, anche se utilizzata a raffica quest'arma, quindi senza prendere le pause, sulla lunga distanza devo dire che non va a perdere molto, cioè ci sono armi molto peggiori per quanto riguarda comunque il rinculo. Ho deciso comunque di optare per il doppio livello critico e il doppio danno critico, in quanto secondo me quest'arma non ha bisogno di una velocità di ricarica. Certo, non nascondo che in molte situazioni sarebbe comodo ricaricare leggermente più velocemente, ma in questo caso comunque non è così fastidiosa come molte altre armi, diciamo che 2,3 secondi possono anche bastarci, ce li facciamo andare bene e soprattutto così otteniamo un danno più equilibrato, ma soprattutto un livello critico più equilibrato. E ragazzi, questa è l'arma, secondo me nel suo complesso è un'ottima arma, assolutamente da non farsi scappare. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Io comunque ragazzi vi ringrazio di essere arrivati fino a qui a guardare il video, vi ricordo che se volete supportare la crescita di questo canale vi basta inserire il codice KinoTV nel item shop di Fortnite. E per oggi è tutto, noi comunque sappiate che ci vediamo con il prossimo episodio che dovrebbe essere domani. Questa settimana comunque faremo anche delle live, quindi vi consiglio di attivare solamente la campanella a questo canale. E niente, per oggi è tutto. Noi ci vediamo alla prossima. Bella Bella! Ciao!